dire il mio acquario immobile l'ho fatto fare da mir con falegname che abita dietro a casa mia vasca presa da meccantopoli 30 euro nuova costa 2 80 filtro regalato tra virgolette da il benny e sfondo 3d adesso devo ancora capire che pesce di messici dentro ma vediamo ci vorranno una 15 anni di giorni prima che il filtro diventi maturo per ottimare dei pesci un saluto da full timer pesca quello tetro a 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti